Musica Nei prossimi due anni la Toscana sperimenterà il futuro del trasporto pubblico locale. Il 29 dicembre è stato firmato il contratto ponte fra la Regione e la Scarla One, la nuova società che raccoglie gli attuali 14 gestori del servizio sul territorio regionale. Si è aperta così una nuova fase nell'attesa che la Corte di Giustizia Europea e il Consiglio di Stato si pronunciano sulla guerra di ricorsi scoppiata alla fine del 2015 fra Autoline e Toscane e il Consorzio Mobit sulla giudicazione della gara bandita dalla Regione per individuare un gestore unico. Il contratto ponte si basa sull'affidamento diretto in via d'urgenza del servizio TPL alla One, quindi agli attuali gestori, per un periodo transitorio di due anni, il 2018 e il 2019. Una soluzione su cui hanno espresso parere positivo sia Autoline e Toscane che Mobit. È un segno importante di modernità di questa Regione, io sono fiero del lavoro che è stato fatto, voglio ringraziare i nostri tecnici che hanno durato molta fatica a trovare la combinazione di tutto, come è ovvio per una gara di questo valore e poi il contenzioso si risolverà, sono molto contento anche che sia stato accolto il nostro appello alle due imprese a non spaccare come si dice l'oggetto, a mettersi insieme in attesa che poi ci sia un pronunciamento, sarà quello che sarà. Ma intanto il servizio parte a partire dall'anno prossimo per due anni, durante i quali questo contenzioso si risolverà e quindi ci sarà poi il gestore definitivo del servizio. Il contratto Ponte prevede che la One garantisca la copertura di 109 milioni di chilometri all'anno in cambio di un corrispettivo complessivo di 300 milioni di euro che insieme a 110 milioni di ricavi annui stimati consentiranno di cominciare a migliorare sensibilmente il servizio offerto ai cittadini. In questi due anni di contratto che abbiamo fatto in via d'urgenza proprio per attendere che finisca il contenzioso fra i due ricorrenti saremo in grado di anticipare molti di quelli che sono gli aspetti positivi che erano contenuti nell'ambito del capitolato di gara. Avremo nuovi investimenti, 229 mezzi nuovi tra bus ed autobus. Avremo investimenti per quanto riguarda la tecnologia, dalle paline intelligenti per l'informazione, all'installazione del sistema AVM su tutta la flotta circolante che consentirà da una parte di avere informazioni attraverso lo smartphone per chi avrà l'applicazione attivata ma anche per controllare i chilometri che effettivamente vengono svolti e che la regione dovrà pagare. Avremo la possibilità di avere biglietti elettronici, quindi fare il biglietto con gli sms in tutti i capoluoghi di provincia. Avremo anche l'interoperabilità, ad esempio sul bacino fiorentino. Il biglietto sarà valido per tutti i mezzi pubblici su gomma ma anche per quanto riguarda Trenitalia. Insomma il contratto ponte permette di rendere operativi molti aspetti del servizio previsti dal bando di gara per il gestore unico del TPL in tutta la Toscana. Avremo un aumento rispetto a quelli attuali, passiamo da 106 milioni a 109 milioni, quindi 3 milioni di chilometri in più che significano servizi in più e non in meno come invece accade in molte altre regioni. Alcuni comuni come quello di Firenze hanno fatto delle scelte importanti sostenendone gli oneri. Quando entrerà in servizio la tranvia, ad esempio, non scompariranno i chilometri che attualmente vengono svolti da ATAF su quelle linee, non si sovrapporranno ma verranno spalmati invece sul resto del territorio laddove il Comune ha ritenuto che ci sia magari bisogno di implementare le linee già esistenti o magari di aumentare le corse. Dal 1 luglio 2018 prenderà il via anche la cosiddetta comunità tariffaria, con tariffe omogenee in tutta la Toscana e un costo del biglietto urbano di 1,50 euro nei capoluoghi e di 1,20 euro nei centri minori, allineando le tariffe extraurbane alle attuali tariffe ferroviarie. Previsti anche abbonamenti a tariffa ridotta per gli studenti e per coloro che hanno un reddito familiare certificato ISEE inferiore ai 36.000 euro all'anno, come avviene per i treni. Ad oggi la situazione è molto differenziata per quanto riguarda il costo dei biglietti, per quanto riguarda il costo degli abbonamenti. Invece nei prossimi mesi, a partire dal luglio, avremo una omogeneizzazione per cui le tariffe saranno a fasce ma uguali in tutta la Toscana, gli abbonamenti saranno uguali in tutta la Toscana, sarà applicato l'ISEE, tanto un ISEE molto elevato, 36.000 euro, che consentirà una grande accessibilità per quanto riguarda le detrazioni, alle quali si aggiungeranno anche le possibili detrazioni del 19% previste dal governo nella legge di stabilità di quest'anno. Per quanto riguarda invece il rinnovo del parco mezzi, nel giro di due anni, 229 nuovi autobus a basse emissioni andranno a sostituire altrettanti vecchi bus Euro 0 ed Euro 1, quindi ad alto impatto ecologico. Si tratta in definitiva di salario indiretto per i ceti più deboli. Voi sapete benissimo che se si viaggia in auto si spende di più, se si spendono i mezzi pubblici in fondo all'anno rimangono risorse importanti in tasca. E quindi facciamo un'operazione che è allo stesso tempo ambientale, perché rinnovando il parco macchine ovviamente si inquina anche di meno, ci sono i nuovi parametri a cui ci dobbiamo attenere. E facciamo anche un'operazione sociale perché un pulma nuovo è appetibile per tutti, per chi si reca al lavoro, per chi ha bisogno di un pulma per spostarsi. Contestualmente al contratto ponte, la Regione ha sottoscritto un accordo con i due contendenti, Autoline e Toscane e Mobit, che ribadisce l'anticipazione di alcuni effetti significativi della gara, come gli investimenti e le nuove tariffe e la disponibilità ad acquisire tutta la documentazione necessaria per il subentro del futuro vincitore agli attuali gestori. Avere il contratto significa che tutti gli investimenti che vengano fatti saranno oggetto di riacquisto da parte di chi sarà l'aggiudicatario della gara, e quindi questo contratto è veramente fondamentale perché ci consente di acquistare i nuovi bus, di investire in paline elettroniche, di investire nella VM, nella realizzazione dei servizi di infutenza e tutto quello che si aspettano oggi gli utenti, sapendo che tutti questi investimenti saranno poi recuperati chiunque sia il vincitore della gara. Quindi questo è lo snodo fondamentale. L'accordo chiude la fase incerta delle proroghe e stabilisce anche una serie di impegni nei confronti dei lavoratori. La gara aveva fotografato al 2013 l'elenco dei lavoratori del TPL, dando garanzia nominalmente a ciascuno di loro di essere riassunti in qualche modo dalla giudicataria della gara. Firmare questo contratto consente di ripetere questa ricognizione al 31-12-2017, quindi anche tutti quei lavoratori che tra il 2013 e il 2017 sono entrati nelle nostre aziende avranno questo aggiornamento di garanzia per il loro futuro lavorativo e non solo, anche in questi due anni si potranno fare nuove assunzioni e quelli che verranno assunti all'interno del contratto ponte avranno la garanzia di mantenere il posto anche successivamente alla giudicazione della gara. Insomma, grazie al contratto ponte, nei prossimi due anni la Toscana avvierà una gestione del TPL su ambito regionale superando l'attuale frammentazione e garantendo una maggiore omogeneità del servizio senza dover attendere i tempi delle sentenze della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato. Il messaggio che possiamo dare è che questo processo innovativo che la Toscana ha lanciato per quanto riguarda la qualificazione del trasporto pubblico locale in questo caso su gomma ma fortemente integrato con il trasporto su ferro prende avvio nonostante il contenzioso. Non rimaniamo ingessati ad aspettare le decisioni dei tribunali ma invece partiamo con queste scelte che sono scelte molto innovative ma anche molto positive perché quando parliamo di investimenti, quando parliamo di biglietti integrati quando parliamo di tutela dell'occupazione in questo settore lavorano più di 5.000 persone in Toscana e vuol dire che siamo di fronte a scelte politiche importanti che guardano a chi deve prendere il trasporto pubblico locale per andare al lavoro o per andare a scuola con molta attenzione ma complessivamente è la scelta che rientra in quella mobilità sostenibile che la Regione Toscana sta perseguendo con fatti concreti come questo. Grazie a tutti.